Oggi secondo giorno di screening qui alle scuole medie di Pesaro dopo i risultati di ieri oggi il sindaco Matteo Ricci ha commentato quelli di questa seconda giornata. Anche il secondo giorno di screening per gli studenti delle scuole medie pesaresi ha registrato una buona adesione. La macchina è stata messa in moto per la terza volta dal comune di Pesaro. Significativi i numeri di questa seconda giornata rivolta agli studenti delle classi seconde e terze medie sono stati scovati 21 positivi su 566 tamponati. Ieri invece nella prima giornata dedicata alle prime medie di nove istituti scolastici pesaresi solo 3 su 600 sono risultati positivi al tampone. Attorno alle 11 alla scuola Dante Alighieri è arrivato anche il sindaco Matteo Ricci che ha commentato così l'operazione da lui stesso avviata. È l'unico strumento possibile. Ieri ho incontrato il ministro Bianchi alla pubblica istruzione e ho ribadito che se vogliamo davvero avere una scuola sicura l'unico modo che abbiamo è quello di monitorare costantemente i ragazzi da qui alla fine dell'anno scolastico. Non c'è altra strada perché i ragazzi sono fuori dalla campagna di vaccinazione, fino ai 16 anni non verranno vaccinati, sopra i 16 anni presumibilmente verranno vaccinati durante l'estate, alla fine dell'estate, quando l'anno scolastico sarà finito e quindi se vogliamo davvero garantire il più possibile una scuola in presenza e una fine ordinata dell'anno scolastico l'unico modo è questo. C'è nella volontà del ministro quella di controllare i ragazzi in tutte le scuole, stanno studiando il meccanismo organizzativo e ci sono 150 milioni a bilancio perché nella DL sostegno che si sta discutendo in queste ore ci sono 150 milioni destinati al controllo dei ragazzi nelle scuole. Stanno uscendo diversi positivi, non in maniera esorbitante, che vuol dire che la scuola tutto sommato è un luogo sicuro, ma ieri 3, oggi già siamo a 10 a metà mattinata, quindi stanno uscendo dei numeri che dimostrano che se quei ragazzi non fossero stati controllati con il tampone veloce, inconsapevolmente nei prossimi giorni avrebbero infettato altri compagni di classe, familiari. Questo esperimento poteva essere una grande iniziativa regionale per tutti i marchigiani, invece come sapete non hanno voluto collaborare, non ci hanno dato neanche i tamponi, continuano ad ostinarsi a non farla questa iniziativa, noi ci siamo organizzati per conto nostro, siamo contenti perché siamo ormai al terzo screening e quindi comincia ad avere anche una rilevanza statistica. Credo che la Regione Marche abbia perso un'opportunità. Domani, ultimo giorno di tamponi veloci per le scuole medie, dalle 8.30 alle 10.30 alla Leopardi, dalle 8.30 alle 13 alla Don Gaudiano e dalle 11 alle 13 alla Olivieri. Poi la prossima settimana toccherà le scuole superiori.